Cucu Mesami, bentrovate, bentrovati, oggi parliamo di novità per il mese di aprile e inizio con la meraviglia che sto indossando, una bellissima camicetta in seta, indovinate chi me l'ha inviata, Lily Silk, sapete che è un'azienda leader per quanto riguarda le fibre pregiate come seta e cashmere, da sempre sono fibre, soprattutto la seta utilizzate fin dall'antichità da re e regina proprio perché preziose, lucenti, hanno un sacco di caratteristiche di cui vi ho parlato anche in passato, sono traspiranti anche per chi soffre di allergie, sono materiali anallergici, essendo fibre naturali sono adatte a tutti, avvolgono e accarezzano la vostra pelle senza creare irritazioni, allergie, dermatiti, sono splendide. Questa che indosso è tra l'altro meravigliosa in questo colore primaverile rosa pastello, penso che sia veramente stupenda, tra l'altro è arricchita con dei bottoncini in madreperla. L'azienda ve ne allega un paio nell'etichetta nel caso dovessero andar perse, le avete anche nel polsino, io ho preso una taglia M, veste benissimo, vi avevo già fatto un video con una camicetta dedicata all'estate, vi lascio qui la foto, era di un bellissimo blu intenso, all'epoca avevo il colore dei capelli platino e quindi spiccava maggiormente, questa volta ho scelto un colore brillante ma comunque raffinato, molto chic, molto elegante. La seta che viene utilizzata per la realizzazione di tutti questi capi, vi lascio comunque giù in infobox tutti i riferimenti, il sito www.lilysilk.com dove potete andare a sbirciare, ci sono delle meraviglie, ho visto addirittura dei poncho in seta per l'estate meravigliosi, sapete che loro confezionano anche biancheria intima, indosso infatti anche un reggiseno che mi inviarono tempo fa. Lily Silk tratta i propri capi in un modo accurato e molto attento, sia nella colorazione del tessuto stesso, cerca di rispettare determinate tradizioni millenarie che non appesantiscano il pianeta, così anche come gli imballaggi che sono tutti di carta riciclata. Vi lascio infatti una foto di come arrivano e arrivano anche impacchettati con cura, visto che ci approssimiamo alla Pasqua, se siete desiderose anche di fare dei cadeau, vi lascio il mio codice sconto 12ER, che se decidete di acquistare oltre al primo capo un altro capo, passa al 30% e diventa 30ER, comunque tutti i riferimenti giù in infobox. La taglia che indosso è M, arriva fin giù all'ombelico, quindi è perfetta, è molto sinuosa e anche per chi ha un bel seno abbondante, cade bene, avvolge, segue le forme senza strizzare troppo. Morbidissima, traspirante, analergica, importantissimo anche il fatto che sia traspirante andando incontro all'estate, avere indosso capi di fibra naturale che abbiano questa capacità di far respirare il corpo e la pelle è molto importante, piuttosto che avvolgerci in capi sintetici. La fibra, la seta, proviene dal gelso, dai bachi di seta che si nutrono del gelso, che è una delle più pregiate. La qualità 6A, vi lascio il riferimento, è una qualità superiore, quindi non è una comune seta. Anche le ragazze di Intimissimi mi dicono sempre che ci sono vari gradi di qualità per quanto riguarda il filato e la preziosità della materia. Prima è veramente una carezza sulla pelle. Mi ero già trovata bene con il precedente capo color turchese, l'ho lavata varie volte, utilizzata nell'estate e non ha mai perso colore, e quindi oggi vi presento la meravigliosa camicetta color rosa. L'azienda Micoccola mi ha inviato anche due nuove federe, perché vi ricordo che la seta è preziosissima anche per la nostra pelle, per il nostro riposo, evita lo stropicciamento, evita le rughe, che per alcune può sembrare strano, ma le rughe di espressione, perché si risveglia al mattino tutta rovinata, vi posso dire che questa che ho scelto io è un bellissimo colore grigio-argento, meraviglioso. Mi piace anche il contrasto del rosa con il grigio-argento, è meraviglioso. Queste federe sono altrettanto 100% seta, quindi per coccolare il vostro riposo e aprire le danze di mille e una notte, vabbè, la seta è preziosa, vedete come irradia luce, non solo indossando un capo, ma anche riposando su un tessuto del genere così prezioso, vi regala una freschezza. Io l'adoro in estate perché è un materiale proprio naturale, è molto sensuale. Il fatto che questo tessuto, questa fibra preziosa, vi scivoli sul corpo, vi rinfreschi d'estate, è fenomenale. E visto che ci stiamo avvicinando, io ve le volevo menzionare, me le avevano mandate anche, le avevo scelte di un bel rosa intenso, quasi tendente al fucsia, perché mi piace anche abbinare più colori sul mio copriletto, sul mio copripiumino, o comunque sulla mia parur letto. È veramente preziosa, guardate qua che meraviglia, è stupefacente. Quindi ringrazio Lily Silk per le meraviglie che mi manda sempre. Sono indumenti, capi, prodotti che parlano da soli. Sono preziosi, vi ripeto, lucenti, di altissima qualità. Se volete investire anche per arricchire il vostro guardaroba, queste camicette vi regalano veramente quell'accessorio che fa la differenza. Indossato su un jeans, su un pantalone elegante, come sottogiacca di un bellissimo taillier. Sono capi stupendi. Grazie Lily Silk. Continuando a parlare delle novità di aprile, ho ceduto ad un rossetto della Chiara Ferragni nazionale. Ho preso il colore 08, che ora vi mostro qual è. Pack fucsia, che si abbina perfettamente anche alla mia camicetta. Il logo di Chiara Ferragni è questo bellissimo color marrone. Ma come mai ritornano gli anni 80-90? Anche la Chiara Ferragni nazionale ha deciso di buttarsi sul marrone, sul coffee shimmer, sul coffee bean, ed ero quindi desiderosa di acquistarlo e provarlo. Magari faremo un video dedicato. Sono usciti anche i rossettini di Nabla. Questi Rouge Alèvres Cremaux e Leger. Sono cremosi, è vero. Inizialmente non li volevo acquistare. Poi Cosmetics for Less faceva una promo del 20% e comprando tre rossetti arrivavo comunque alle spedizioni gratuite. Quindi li ho presi lì perché so che sono andati sold out un po' ovunque. Anche di questi si potrebbe fare un video dedicato a paragone con i rossettini di Revlon. Sono dei mega rossettoni, se vedete, in confronto al rossettino di Chiara Ferragni. Molto bello, mi ricorda tanto gli anni 80. La N di Nabla, che c'è sia sul tappo, che sembra più una N di Napoleone che non una N di Nabla. Sono dei rossettini, questo è Nocturna. Avendo sotto un altro rossetto, il colore è alterato. Non è quello che vedo negli swatches andati virali. Sono rossetti sì cremosi, che io non darei con matita, proprio perché si ha la sensazione che nel momento in cui voi lo stendete, si aggrappi alle labbra. È una sensazione strana di una tensione immediata della texture alle labbra. E vi dirò di più che più rimane in posa, più secondo me il colore si stabilizza. Le formule mi piacciono tutte, soprattutto le più chiare. Ho preso proprio il Nocturna perché era un colore sì intenso, ma neanche poi più di tanto. Sui rossi invece, pur essendo due colori bellissimi, non mi sono sbilanciata perché il rosso secondo me piace più matt. È una questione di gusto personale, però faccio sempre in tempo a cambiare idea. Nel senso che parto con un'idea e poi in itiner cambio totalmente. Solo i cretini non cambiano idea, vi vorrei dire. E poiché in tante mi avete scritto sotto al video recensione della linea di L'Oreal Elvive Bond Repair, che è una linea ahimè cara, non cara come Olaplex, vi vorrei dire che da DM Italia è uscita proprio la linea Plex Care, che nasce proprio come dupe della Olaplex. Quindi di questo riparleremo sicuramente. Sono ovviamente prodotti per capelli danneggiati. Le guru tedesche li hanno già battezzati come i dupe ufficiali della linea Olaplex. Opera proprio sugli stessi legami chimici, mentre la Bond Repair è caratterizzata da aceto citrico, che voglio dire non è altro che aceto, e già le nostre nonne dicevano appunto che l'aceto faceva diventare lucenti i capelli proprio perché andava a chiudere le squame. Qui invece opera un legame chimico che perfeziona il danneggiamento del capello fino a sanarlo. vi saprò ridire. Svolazzando, svolazzando, verso la chiusura di questo video e verso la primavera, termino con questa Limited Edition di Balea. È una maschera in tessuto a forma di farfalla. Che meraviglia! Per tutti i tipi di pelle, acido ialuronico ed estratto di peonia. Una meraviglia! Bene, anche per oggi video novità termina qui. Io spero di essere stata di compagnia. Vi lascio giù in infobox tutti i riferimenti nel caso vogliate acquistare questa meravigliosa o altre meraviglie sul sito di LilySilk. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!